Buongiorno bambini, eccoci per la nostra nuova lettura del circolo dei lettori. Allora, oggi ho scelto un libro molto grande, pieno di racconti divertenti, che si chiama Storie curiose per bambini che amano gli animali. E vi leggo un pezzo della prima, vi faccio vedere anche qualche illustrazione, sono piccole illustrazioni in bianco e nero, ma molto divertenti. Qui veramente siamo all'insegna del divertimento. Il primo racconto si intitola Attenti al cane, eccolo qui, il cane. Non preoccuparti, disse la mamma, ce la caveremo, sono sicura che andrà bene. La mamma e Terry stavano andando a comprare un cane. Sei proprio sicura di volere un cane e non un gatto, o un pesce, o un umbrico? Sono sicura mamma, voglio un cane, disse Terry. Questo è il desiderio di Terry. Il negozio di animali era molto pieno, pieno di gente e di animali. Terry e la mamma andarono dritte dal negoziante e raggiunto il momento che avevano tanto aspettato. Sei Terry? Sì? Da questa parte devi fare il colloquio, disse il negoziante. La condusse in una stanza sul retro e la lasciò sola. Seduto dietro una grossa scrivania, la stava aspettando un cane. Eccolo lì. Dunque sei tu, Terry, giusto? Chiese il cane. Giusto, intervenne la mamma che era al suo fianco con voce preoccupata. Secondo me, Terry può rispondere da sola, disse il cane alla mamma in tono abbastanza severo. Bene, Terry, riprese il cane aprendo la cartelletta. Per cominciare, quanti anni hai? Cinque, rispose Terry. Mmm, sei un po' giovane, ma non importa, disse il cane. Hai già avuto un cane? No, disse Terry. Ma ho un orsacchiotto. Sì, ribatte il cane. Ma io non assomiglio molto a un orsacchiotto. Ti pare? Sei peloso come Alfie, disse Terry. E chi è Alfie? Il mio orsacchiotto? Certo, certo, disse il cane. Avrei dovuto immaginarlo. Ma vedi, tu non devi nutrire un orsacchiotto, vero? Proseguì il cane. Io devo essere nutrito. Questo lo so, disse Terry. Ti piacciono gli ossi, no? Oh sì, gli ossi mi piacciono, rispose il cane. Ma servono solo per masticare. Sai, a me piace masticare e ringhiare. Mi piace anche ringhiare. Qualche volta ringhio mentre mastico. Ora ti faccio vedere. Il cane aprì un cassetto della scrivania, ne tirò fuori un osso grosso e cominciò a rosicchiarlo. E mentre rosicchiava, ringhiava. Che ne pensate? Disse il cane. Terry ogni tanto parla mentre mangia. Ma noi le diciamo che è sempre meglio non farlo, perché potrebbe andarle di traverso, disse la mamma. Ah, questo a me non succede, disse il cane. E ripose l'osso nel cassetto. E adesso, riprese il cane, parliamo di dove dormirei. Che cosa mi avete preparato? Oh, abbiamo una bellissima cesta per te, disse la mamma. Glielo dico io, intervenne Terry. Abbiamo una bellissima cesta con scritto Lessi. Ma io non mi chiamo Lessi, disse il cane. E così la loro conversazione continua. Chissà se la bambina Terry riuscirà a portare a casa il cane che tanto desidera. E a chiamarlo Lessi soprattutto. Se vi è piaciuto questo inizio della storia, che è molto spiritoso perché il cane parla e fa il colloquio alla bambina che dovrebbe diventare la sua padroncina, allora andate avanti a leggere queste storie perché sono veramente divertenti. Intanto però vi ho preparato un piccolo lavoro di fantasia da fare. Tutti i bambini desiderano un cane, anche i grandi veramente. Anch'io desidererei tanto un cane. E quindi ho immaginato di fare un ritratto del cane che vorrei. il cane oppure un altro animale, potete scegliere, che vorrei o che avete la fortuna di avere già in casa. Eccolo qui. Il quadro che conterrà il ritratto del vostro animale con sotto il suo nome. E poi sotto potete mettere 5 o 6 punti, io non ho messo 6, in cui vi impegnate a curare il vostro animale. Quindi come proprietario di, è il nome dell'animale, mi impegno a, e mettete 6 punti. Per esempio, se è un cane, bisognerà dargli un osso da rosicchiare, oppure preparargli una cesta, oppure dargli da mangiare a un orario preciso, oppure portarlo fuori al parco per 3-4 volte al giorno. Sono tutte le regole che ci sono per tenere un animale. Ogni animale ha bisogno delle sue cure. Chissà, possiamo indagare e informarci, e vedere le 6 regole più importanti per rispettare il proprio animale domestico. Grazie bambini, e avanti sempre con le belle storie da leggere.